Quali limiti dell'istruzione nel presente verranno superati dall'istruzione del futuro, Juan Carlos Martello? Allora, l'istruzione è in costante evoluzione, quindi ha dei limiti e deve lottare costantemente per superarli. I limiti sono di vario tipo, perché da una parte il mondo cambia e quindi il sistema educativo deve in qualche modo rimanere in sintonia col mondo e questo è sempre stato così e continua ad essere ancora ad oggi, forse ancora di più, visto che il cambiamento tecnologico è particolarmente veloce. Poi effettivamente le tecnologie digitali in particolare stanno cominciando a dare alcuni ausili per i docenti che secondo me rimangono centrali ma non per conflitto di interesse essendo di un docente stesso perché i dati dimostrano che senza la componente umana l'istruzione non funziona e quindi le tecnologie digitali stanno aumentando la cassetta degli attrezzi dei docenti che prima dovevano basarsi sull'intuito, sulle caratteristiche tipiche di un bravo docente che adesso però a fianco di queste caratteristiche naturali possono avere per esempio dei dati che possono aiutarli a capire se ci sono delle difficoltà con un certo studente in che modo rapportare a un certo argomento specificamente per un certo studente, una certa classe. Quindi diciamo che le tecnologie digitali in varia forma stanno come dire un potenziamento delle capacità dei docenti attuali senza aspettarci un cambiamento radicale, una rivoluzione perché alla fine educazione vuol dire un rapporto interpersonale, deve funzionare quello e poi benvengano le lavagne, i gessetti, le matite, i computer, il cloud, l'intelligenza artificiale qualunque cosa pur che al servizio di questo rapporto interpersonale. E allora a proposito dell'insegnante, quali elementi dovrà inserire nuovi nella sua istruzione e nella proposta di istruzione del futuro? Allora sicuramente dovremmo capire in che modo far capire ai studenti attuali del futuro in che modo vanno a vivere, in che mondo vanno a vivere perché è un mondo che sta cambiando molto soprattutto per effetto della tecnologia, deve andare a loro gli strumenti per capirlo quindi strumenti critici per dire che stanno capitando le seguenti cose queste sono le cause, queste sono le possibili traiettorie e questo l'abbiamo fatto già in passato, dobbiamo aggiornarci per le nuove tecnologie e per lo scenario attuale, quindi questo sicuramente è qualcosa che gli insegnanti devono imparare a fare non possono far finta che il mondo sia ancora quello di 30 anni fa.